Ciao a tutti amici e bentornati in questa nuovissima puntata di Don't Start Together Come al solito io sono Amoruxi, qua dall'oltretomba, nella voce dell'oltretomba c'è... Matrejus S S Va bene, detto questo amici vi ricordo come sempre di lasciare un bel like per supportare la serie Commentate e condividete Detto questo, Matrejus Cominciamo Ci vediamo in game Ed eccoci in game amici, appunto per continuare Dunque, allora, obiettivi da fare Dunque, sicuramente bisogna iniziare a fare la prima fattoria base almeno, come minimo Esatto Magari qualche cesta, Matrejus, se riusciamo Sì Il fuoco magari... Fuocherello, quello... Quello eterno, non ricordo più come si chiama E magari qualche cosa per la lotta Quindi, in realtà, ma domanda, la cassa possiamo già farla? La cassa? Dov'è la cassa? Dov'è la cassa? Dov'è la cassa? Ho visto sto coso qua? Dunque, amici, come vi ho detto, cosa stai... No, è quello che stai portando dietro si chiama suspicious marble, marmo sospetto Eh, ok... Grazie Che non so cosa serve, però... Va bene, grazie, Matrejus E' lasciato giù il tuo cappello, eh? No, dov'è? Qua? Cino... Perché? Ah, spona senza... Ok, adesso il problema è come... Lascialo giù Guarda, è senza faccia Clementine È vero Come lo lascia? Lascialo giù No, lo lascia! Eh, ci sarà... Ci sarà equipaggiato di fianco Oh, sì, sì, è vero Eccolo Dammi il cappello che sennò si diventa pezza Clementine Io ho l'inventario pieno Mi serve assolutissimamente queste robe Eh, te le ho date, te le ho date Una ce l'ho io di asse Lo possiamo già fare Ma dove cavolo è le assi? Dove sono? Ah, due ce le hai che una te le ho date io Sì, e una mi serve Eh, la puoi craftare che ti ho dato il mio Ho visto, ho visto, Matrejus Non avevo visto che me l'avevi dato Ok, e a questo punto facciamola il baule Ok, e lo metto qua Va bene? Ma che bello, aspetta che... Te lo chiudo che così lo puoi aprire te, vai Bravo, 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 bravo Devo dire, bravo Pepita dentro, pepita dentro, Matrejus Poi, 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 poi Tronco dentro Poi la putrefazione qua Le pigne lascio dentro Sta diventando notte, tra l'altro Forse è meglio che... Però noi abbiamo le zucche Sì, ma le zucche non bastano Non bastano Sto facendo un focarello Non c'ho... Eh, ti pare... Non c'ho nulla per fare il focarello Non c'è mai niente, non c'hai Però stando vicino alle zucche penso non sia problemi Meglio non rischiare Ok, poi... Ma le pigne non si potevano anche piantare, no? Le pigne, sì, le puoi piantare Ok, ok In modo da far crescere gli alberi Esatto, perché... Sai cos'è il problema, Matrejus? Tutto ciò... Eh? Eh, il problema è che... Non avendo... Volevo cucinarmi, però Cioè, il problema è che... Quando tu batti gli alberi Si incacchialo tipo l'ent della... Della foresta Invece ripiantandoli si... Tra virgolette si... Calma Insomma così Ah, adesso... Vabbè, partiamo... C'ho 6 pigne Reus, partiamo per l'esplorazione Dove cavolo stai andando? Inizio a piantare Ah, ho sbagliato Andiamo verso il basso, che non c'è niente Vai, andiamo L'isola va... Allora, io direi di andare verso destra Tra l'altro tu sei lento, eh, rispetto a me Eh, sì, lo so E Jason con la... Con il... lì, la coroncina di fiori È inguardabile, te lo dico Ma, dunque, qua non ci dovrebbero essere i bufali dove c'è sta... Eh, non per forza Dobbiamo trovare la zona C'è una trappola Come una trappola? C'è una trappola, c'è uno morto Che ha lasciato giù delle... Eh, ma che io sono lento Vabbè, c'era uno morto che... C'è un... c'è un... c'è un ragno, vabbè Raccogliamo le cose L'erba, raccogliela che ti può servire Eh, la sto raccogliendo Ah, eccolo qua, forse sulla destra sono i bufali, spero Eh, no Abbiamo bisogno della cacca Quanto di cacca abbiamo bisogno? Quattro mi pare, no? Non lo so, però quando li troviamo prendiamo tutto il possibile Non ci sono problemi Eh, veramente i problemi ci sono Dobbiamo trovarli Esatto Perché se non li troviamo, col cavolo C'è un'altra zona qua, eh, sulla destra qua Raccolgo anche le pietre Tu raccogli tutto, tu, tutto Io raccolgo tutto No, c'è acqua qua Tu che sei più veloce, vai ad esplorare un altro Io vado ad esplorare Io ci metto dieci minuti a raggiungerti Vabbè, ma non è detto che mi devi raggiungere, cioè l'importante è che No, no, no Raccogli anche tu le cose, perché dobbiamo... Certo, certo Quando arriva l'inverno sono cacchia mare qui Cioè, ho trovato un buco Uno di quelli che devi... ci salti dentro per cambiare zona? No, 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 un buco proprio nella mappa Ah È un buco e soltanto si deve arrivare Io invece ho trovato quello... quello che possiamo saltare dentro Secondo me potremmo anche provare Vabbè, per ora direi di no, perché intanto... Ci conviene Ho trovato pietre, san nitro Pietre a pala, eh, ce ne ho, eh Pietre ce ne servono dodici per fare il fuoco Beh, dodici di quali? Di quelle... Quelle normali Quelle normali Beh, quelle normali ne ho dieci Pietre Però un po' ne ho di più Ma dobbiamo cercare i bufali, cioè, assolutissimamente Uh, io ho trovato... Cacchi, vieni qui da me Ho trovato... no, dimmi cos'hai trovato, vieni qui Ho trovato il cimitero Perché... e qua si possono trovare cose interessanti se hai una pala Con la quale scavare La pala si può fare La pala la possiamo fare vicino al... Alla macchina della scena La pala si può fare Allora, qua ci sono delle rocce, c'è un... C'era una roccia con uno che spiava dentro Un'altra vena dopo Ma tu non sei tanto lontano da me, eh? No, 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 io sto andando qua Per raccogliere un po' di pietre Stiamo attenti sempre alla sera, eh? Perché ricordati che da qua dobbiamo... Che tornare Certo, certo Sì, comunque sì, le tombe lì con la pala Con la pala possiamo ottenere un sacco di roba interessante Certo, corretto Detto che non abbiamo trovato i bufali Il problema è anche quello Io direi di tornare Verso casa intanto a togliere altre cose Allora, in teoria potremmo fare il fuoco da campo adesso Quello vero o quello... Sì Ci servono gli alberi Allora, aspetta un attimo che devo aprire la cesta per il regalo E abbiamo... e ho trovato... attenzione Fai un fuocarello veloce, per favore Ho trovato delle scarpe New skin, pumps Ottimo Mi sono messo delle scarpe... Guarda, guarda Guarda le scarpine Belle Fai un fuocarello veloce In realtà vorrei fare il fuoco quello vero, ok? Eh, fallo però Ma non c'è Eh, te lo tiro giù io Oh no, è qua, è qua Ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho Eccolo qua Mi serve per cucinare Cucato in fuoco Vado Eccolo Mamma mia, guarda che... guarda che come... Illumina Allora, sì, se vuoi qualcosa da mangiare ce l'ho Eh sì, mi serve che sono a dodici Eh, ma però io ti posso dare una di carota se vuoi Eccolo qua Poi ho dei semi Dammi... mi servono, sono a ventinque Sono povero io Te li cucino Ne mangio uno E due te li do Meglio di così Ma tre Ne mangio uno, due te li do Do piglia, va Perfetto Ventinove Non sopravvivo la nuova Sai che c'è un altro qua di semi, raccogli dai, son qua, guarda Ah, c'è un altro di semi Allora Dunque, allora, la trappola in realtà io l'ho tirata su Però è al 13% E... Ah, io ne posso fare uno Sì, no Sai cos'è il problema? Senza problemi Sai cos'è il problema? Ah È che uno non ho più semi perché ti metti tutti Eh sì, in effetti potrebbe essere No, nella cassa ci sono comunque dei semi Ok Mi servono Vado a prendere Eh, non vedo più... Non vedo più la trappola, vado Dove devo aspettare il giorno perché... No, ce li ho io adesso Ha variato pesce Eh, mangia ti... cuoci Si, cuoci Cucinalo Ah, non so se fa bene eh Io ci provo Provaci Non so se fa bene Non so se fa male Intanto metto via... Pesce cotto Oh, vedi? Eh, mi ha dato 12 Mi dava di più una carota però Vado Ma poi non si possiamo... Comunque mi son fatto la pala No, ti... la... Te la deposito nel baule Un posto Ah, sì, sì Te la do direttamente a te Vado, vado Vigility Eh, va bene Eh, ho messo i semi Se vuoi Piazziamo le esca coi semi ma non credo che funzioni coi conigli Ma in realtà dovremmo metterla... Vicino alla tana dei conigli e... Sì, è vero Infatti guarda, l'uccello ci sta fregando il seme senza che... Allora, lasciamolo lì, vediamo, qualcosa può... forse può succedere, non lo so Io non esplorerei qua in giro, io andrei nel buco che ci porta da un'altra parte del mondo Tanto poi possiamo tornare indietro sempre saltando nel... Saltiamo Ok, vediamo dove... dove siamo sponati Vediamo un pò Uh Che è sta cosa? Mini ghiacciaio Ghiaccio A parte che... Dai... Siamo dove vicino a dove... dove eravamo... Ma infatti... Piove Scusa Piove Eh, perché non hai detto che ti portano... No, no, infatti però... Ho più vento, eh Non so se ci sono ripercussioni se... Posso fare un martello per smontare le strutture, ma io volevo fare... No, lascia, c'è la pala... Eh sì, adesso... Adesso le usiamo Però l'obiettivo è trovare le cacche... Le cacche, dobbiamo trovare le cacche Eh, lo so... Cioè, sto tirando su tutto meno che le cacche La scorsa puntata... Dobbiamo trovare l'aro? L'ho trovato subito Adesso... Ma scusa, ma... Sta pianta qua Quale? Non mi conviene stirparla Ah, dici? Eh, piantala da noi Ma sì Io lo faccio Prova Prova, prova No Ok Togli anche un po' di erba, un po' di rame Che almeno ci possiamo piantare vicino a casa Sì, io vorrei trovare i bufali, Matreius Ancora? Lo so Scusa se sembra ripetitivo, però... Vorrei trovare i bufali Qua c'è il miele Miele, sai che... Che io quasi, quasi li attacco No, 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 adesso no Se mi supporti un attimo Sta diventando notte, Matreius Non abbiamo armature, non abbiamo niente Io ce l'ho allarmato Allora, vieni su da me che... Bisogna... Ah, vedo l'altra parte della mappa E sta bruciando tutto Eh sì, ma vieni su Almeno esterpiamo un po' di cose dalle tombe Sì, ma Matreius è quasi notte Eh, vabbè Intanto ci manca ancora un po' Dove cavolo sei? Sono qua su Accogliendo anche i semi, eh Perché sennò... Sì, sì, sì Tavolta devo mangiare anch'io Sì, sì Uh, gemma rossa Queste? Sì, guarda, sono tutte gemme Vero Ma tu che cavolo è? E' lì sotto Va in giù, va in giù Dove? No, i bufali stavo dicendo I bufali, eh, li dobbiamo trovare I bufali Questa, la trappola Devo dire che ha funzionato benissimo Da come l'hai detto mi sa che non ha funzionato per nulla Ma gli alberi mi hai piantati alla fine Gli alberi ne ho piantato uno, basta Che dopo Non si conviene piantarne di più, eh Si è iniziato a correre, eh No, si è rotta là Si lascia Si lascia, si lascia Si, no Vai di asia Si, ma lascia come fa a durare così poco Non c'ho spazio nell'inventario Io sto morendo di fame Ancora? Ma non ti sei procurato da mangiare? Si, ma continuo a perderlo a velocità record Ascolta, eh, ho preso Non ho sette Dammi un po' di ghiaccio da mangiare No, ma ce l'ho il mangiare, eh Qualcosa ce l'ho Però non è che devo star lì io a spammarti, cioè Mi rubi le cose, però No, perché non lo devo mangiare io? Perché son messo male anch'io, eh Non è che... Chiaro che il gioco son survival, però son messo male Muoio, muoio oggi Prendo danno No Cinque di semi, ben cinque ho preso Ben cinque E qua si mi salvano fino... per tutta la notte, forse Vabbè è finita dai Posso intratto il vestito d'erba E anch'io lo faccio Oh c'è... no no, c'è il porco C'è il porco che... aspetta che... l'ammazzo Guarda quanta vita Il cosciotto! Ah, carne! Cosciotto il cosciotto Cucionalo Cucionalo Il cocciotto Abbiamo portato a 43 Bene, allora io direi che per questa puntata C'è tutto Nella prossima puntata Ovviamente andremo avanti Ma non la pianta questa Eh sì, lo devi far contato Nella prossima puntata andremo avanti Mi raccomando un bel like, un commento, una condivisione Alla caccia di bufali Nella prossima puntata Dobbiamo trovarli, damolos e damolos Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao